Dopo quello riguardante il tesserato del Rieti da registrare nel Girona F di Serie D, un altro caso di positività al Covid-19. Si tratta di un tesserato della Vastese, è stato lo stesso club a segnalarlo tramite la propria pagina Facebook. La società ha specificato che sono state attivate tutte le misure previste dal protocollo ed ha informato la ASL competente per consentire l'effettuazione dei tamponi a tutti gli altri tesserati e staff tecnico. L'attività sportiva della Vastese è stata temporaneamente interrotta. Le stesse comunicazioni, come da prassi, sono state girate alla LND. La partita che si sarebbe dovuta giocare domenica ad aprilio è stata rinviata. Allo stesso modo è stata rinviata la partita valida per la Juniors nazionale che si sarebbe dovuta giocare domani fra Vastese ed Olimpia Agnonese. Quest'ultima partita è stata fissata per l'11 novembre, mentre ancora non ha una data di recupero Aprilia-Vastese, probabilmente per il fatto che l'Aprilia è già in corsa in un rinvio per Covid ed è stata costretta a giocare la partita contro il Matese mercoledì 4 novembre. La quinta di andata dunque vedrà un altro rinvio dopo Rieti-Porto-Santelpidio, quest'ultima per positività al coronavirus, come detto, in apertura di un tesserato reatino. Intanto dalla propria pagina Facebook la LND ha voluto chiarire alcune delle linee a guida del nuovo DPCM in ambito calcistico. Sono sospese fino al 13 novembre le seguenti competizioni organizzate dalla LND e dal settore giovanile scolastico. La terza categoria, Juniors under 19 provinciali, allievi provinciali maschili e femminili, giovanissimi, esordienti, pulcini e primi calci. Resta per queste categorie la possibilità di svolgere gli allenamenti individuali. Dunque i campionati regionali proseguono, fatta eccezione per la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano. Per il Campobasso testa Almatese con la viva speranza di riavere vitali e sforzini fra i convocabili di giornata e con uno zammarchi sugli scudi è voglioso di dire la sua. Ogni calciatore rosso-blusi è messo a disposizione di Cudini, qualcuno gioca di più, altri di meno. Ma la cosa fondamentale è continuare sulla scia di vittorie. Tre in quattro giornate sono un inizio molto brillante per il Campobasso. Il Matese proverà a impensierire il portiere di giornata. Nelle fila campane due defezioni di rilievo, quella del difensore Delicato e quella del portiere ex Agnonesi Kuzmanovic, espulso a Montegiorgio con quattro turni da scontare. Tante le conoscenze molisane nelle fila del Matese, da Di Lullo, ex Vasto Girardi, allo stesso Kuzmanovic senza dimenticare il tecnico urbano in passato sia al Venafro che all'Agnone. Spulciando i siti di riferimento del Matese si vince massimo rispetto per il Campobasso ed un certo timore velato per vittorio esposito il funambolo di Cudini. Il lanciato Campobasso proverà a fare la gara sin da subito e a scrivere un unico copione del match come è accaduto nelle ultime due interne dove obiettivamente c'è stata poca partita. Da segnalare che da qualche giorno a questa parte gli addetti della società Rosso Blu stanno provvedendo alla risemina sul manto erbosso di Selvapiana. Tutto pronto per il derby dell'Alto Molise fra Agnone e Vasto Girardi. Dopo la segnalazione del positivo nella squadra del Rieti, il Vasto Girardi che una settimana fa si è scontrato proprio contro il Rieti non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'asl laziale competente. È facile ipotizzare anche come il tesserato in questione possa anche non aver partecipato alla trasferta in Molise di domenica scorsa. Tornando al calcio giocato, il derby varrà tantissimo per l'Agnone che ha un obbligo quello di fare i primi punti stagionali dopo le prestazioni incoraggianti. Nel derby ripone tanta speranza tutto l'ambiente agnonese. Va detto che a seguito dell'ulteriore riduzione di posti il Civitelle domenica potrà ospitare al massimo 150 spettatori. Il Vasto Girardi andrà nella vicina Agnone, forte del suo buon inizio di campionato e con il massimo rispetto nei confronti dei cugini agnonesi. Lo stesso Prosperi ha definito l'Agnone una squadra forte con i suoi nuovi correttivi integrati. A 48 ore dal derby sembra ci possano essere tutti i presupposti per assistere ad una partita interessante.